Sì, la notizia di ieri sera quando è cominciata l'invasione in Ucraina, troviamo molto sconvolti sulla situazione della guerra. Chiediamo anche con il Santo Padre di rinnovare le preghiere per il popolo di Ucraina, per la pace nell'Ucraina. Invitiamo tutti i cristiani, tutti i cattolici e le persone della buona volontà di continuare la preghiera per la pace, il digiuno, chiedendo al Signore di aiutare di arrivare alla pace in Europa. C'è il pericolo che non si finisce alla frontiera di Ucraina, che può andare anche oltre di là e siamo in una guerra europea. Grazie. Grazie.